Tra poco salirò su un camion enorme, difficilissimo da guidare e con un carico veramente particolare. Questo è quello con cui viaggiamo. È un autotreno. Incontrerò un camionista sorridente ma che fa un lavoro tostissimo. Insieme a lui visiterò un luogo lontano e particolare. Andiamo in sardegna. Quindi prendiamo il traghetto. E caricherò qualcosa di vivo. E poi conoscerò Walter. È un piacere grande conoscerti. Un trasportatore atipico, elegante, galante. Tutti gli autisti c'hanno la panza, te invece sei fisichino. Ma io... Un camionista che sulla strada ha visto passarsi davanti la via. La macchina ferma, vedi, ho fatto così e poi ho rigirato a destra. Lo vesciai col camion. Un camionista che per viaggiare ha sacrificato tanto. Non era molto presente, diciamo. Più che altro non è stato un padre. Oggi ho un appuntamento in un'area di sosta. E so che il camionista che sto per incontrare non guida un camion come tutti gli altri. Inoltre so che quello che trasporteremo insieme non è un carico molto comune. Infatti con Raffaele trasporterò qualcosa di vivo. Ciao Raffaele. Ciao Raffaele. Piacere grande. Grande, grande. Bene. Questo è quello con cui viaggiamo? Con questo con cui viaggiamo, dai. Allora, questo è un autotreno. Autotreno. Sì. Che è difficilissimo a guidare. Sì. Perché tutti si rifiutano di... Sì. Specialmente la marcia di indietro. Poi vederlo carico è peggio. E andiamo a caricare... No. Le vacche. Ah, vacche. Un sardegno. Sì. Prendiamo il traghetto. E andiamo a prendere il traghetto. Dove ha... A Civitaveto. Andiamo. Andiamo. Siamo pronti. Ok. Domani a te scendiamo... Domani a te scendiamo verso le 6 e mezzo. Sì. Teniamo un incontro in un bar. C'è un procacciatore che praticamente ci prende e ci porta al carico. Però dove dobbiamo andare questo non lo sappiamo. Quindi lui davanti con la macchina... Lui davanti con la macchina e andiamo in Sardegna e in Carica. Quanti ricarichi? Ma se sono grandi dovrebbero andare in una quarantina. Per quanto riguarda le norme sanitarie devono avere tanti metri quadri per ogni tipo di animale. E' difficile come trasporto? E' più difficile. Io avrei potuto il più difficile. Devi anche saper caricare gli animali, avere la passione degli animali, oltre a avere la passione del camion. Ah, certo. Io ho cominciato a lavorare in macelleria perché mi reggevo sulla sedia. Mi mettevo vicino a mio padre su una sedia e aiutavo lui in macelleria. Non è che si pensava ad andare a scuola, si pensava alla passione, gli animali. E si benedetti mezzi, camion. Noi dobbiamo stare domani sera, alle sei e mezza, noi dobbiamo stare al porto. E se no non perdiamo... Ma se no non riusciamo a prendere il traghetto. E sono tutti soldi. Sono soldi. Ci dobbiamo dare da fare. Perché tu una volta iniziati a caricare, non possiamo scaricare più. Sul filo del rasoio? Sì. Tieni la responsabilità che tieni gli animali sul camion. Loro sul camion possono stare massimo 28 ore. Per forza di cosa non la prendiamo, dobbiamo scaricare tutto di nuovo. Sì. Gli altri fanno il bagno, noi in mezzo alla merda degli animali. Ecco. Stando a quanto mi racconta Raffaele, la giornata di domani sarà veramente selvaggia. Infatti dovremmo riuscire a raggiungere diversi allevatori sperduti nel nord della Sardegna. Caricare una quarantina di bestie e arrivare in tempo a prendere il traghetto del ritorno. Fallire significherebbe scaricare nuovamente tutti gli animali. Perdere un'intera giornata di lavoro e soprattutto diverse migliaia di euro. Insomma qualcuno potrebbe anche dire un vero lavoro di merda e in qualche modo avrebbe ragione. La nostra problematica ancora più grande è lavare i camion dopo che abbiamo fatto il trasporto al bestiame. E pensa te lavare un camion di tutti questi escrementi degli animali. Solo lavarla dentro si spende dai 100 ai 150 euro. Per lavare un mezzo dipende dalla tipologia. Se sono maiali gli impieghiamo un'ora e mezza. O vitelli o vacche gli impieghiamo intorno ai 4 ore. E il rischio qual è? Un poliziotto che non ha mai visto un animale, quello ti inizia a fare multe da 1000, 2000, 3000. Perché dice quello ha la corna più lunga, l'altro è più grande. Questo è maschio e questo è femmina e ti iniziano a multare. Per rispettare il codice della strada ci vorrebbero animali nati per il codice della strada. Domani ti devi sforcare, devi sudare, devi stare una giornata a prezzo a loro. Un altro camionista, voglia di portare gli animali, ti dice di no. Ci sono proprio delle splendide premesse. Una giornata in mezzo alle bestie, tanta fatica e tante responsabilità. Mi sorge inevitabilmente una domanda. Ma la bellezza qual è? La bellezza non te la so descrivere, stare con gli animali, col camion. Sì, con le persone. E la bellezza ogni volta di fare una cosa nuova, di avere problemi nuovi, quella è la bellezza. La nave si paga a metri, si prende i metri del camion. E quanto costa il metro? Ma una nave adesso andata in ritorno vai a spendere sui 1200 euro. I soldi invece del trasporto quanto ti pigli? Ma ti deve andare bene sui 60-90 giorni. Eh, sono tanti soldi da investire comunque. Tanti soldi da investire. C'è anche questo, oltre a tutte le difficoltà del trasporto bestiale. Insomma, a Raffaele piacciono le difficoltà. E ce n'è subito una. Parcheggiare l'autotreno nel traghetto. Insomma, io saprei come fai a girare. Eh, disastro. E con un mezzo così è tutto al contrario. Il problema è che quando giri così lui fa questo. Eh, questa roba qua se non l'ambari da piccolo non la puoi imbarare. E infatti Raffaele la guida ce l'ha nel sangue. Gira il camion con la facilità di un'automobile e poi lentamente comincia ad entrare nel traghetto. Eh, perché non va mai dritto. Sì, e più faccio uscire. Autotreno sistemato in un attimo. O no? Dove lo vuoi? Al centro, no al muro. Hanno detto al muro. E aspetta. Tutto da rifare. Proprio uno splendido inizio. Di meglio stasera non si poteva trovare. Dura? Raffaele riparte. La cosa incredibile è che non smette mai di sterzare e raddrizzare il volante. Anche se apparentemente deve andare dritto. Con grande calma parcheggia il suo chilometrico autotreno in uno spazio strettissimo. Tra due camion. E così, finalmente, possiamo scendere. Il viaggio costa di più. Sì. Il vostro. Il viaggio degli animali costa di più in assoluto. Sì. Guadagni di più? No, guadagni di meno. Costano di più pure i mezzi. Cioè, tu hai l'azienda. Vedi cosa? Sempre di più? Ma che rende sempre di meno. Perché lo cambi per sport? Sì, no che passione è. Ah, che passione. Bella. I problemi di Raffaele e dell'azienda sono sempre presenti. E che riesce a essere, vedi, solare. Cosa che non hai mai detto a tua moglie? Quando soffre. Ah, non gli dici che soffre. Ah. Pure se ci stanno tanti problemi più economici, lei li sa pure. Però io non glielo faccio pesare. Il sorriso non ti deve mancare mai. Perché se ti manca il sorriso, è finita la forza. Raffaele deve averne di forza. Il suo è veramente un lavoro bestiale. Lui non si stanca mai di farlo. Nei di ripetermi quante tosti. Tu devi sempre lottare col fatto del tempo. Le problematiche possono essere tante. Devi sapere che stanno tutte allo stato brato. Ah, pure. Sì. Cioè, poi se arriviamo, tu c'è, tutta... Tutta la pelle. Le devi prima radunare e poi mettere là. Se c'è qualche toro cattivo, tu lo metti solo. Ah, pure. Eh, domani lo prendiamo uno. Ma con un toro grosso? È grosso, sì. Domani vediamo. Ah, però. Ecco un bel pensiero con cui andare a dormire. Domani avrò il mio primo incontro con un toro grosso. Dormito bene? Bene. Dormito. Suoi sei? È partita la nostra lotta contro il tempo. E quando è che scopriamo quanti posti esattamente visitiamo? Adesso, fra poco. Sì, perché fra poco incontriamo Raimondo, il nostro procacciatore, che ovviamente all'appuntamento non c'è. Raffaele è subito ottimista. Cominciamo a fatare. Buongiorno, Raimondo. Sto all'area di servizio da ciccio. Ciao, ciao. È ritardo. È ritardo. Dieci minuti sta qua. No, vabbè. Dieci minuti. Un caffè, vai. Sì, Raimondo, dimmi. Oltre al ritardo, Raimondo, la nostra stella al polare qui in Sardegna ha già un cambio di programma. Ma perché le 17 non la possiamo caricare adesso? Ah, cioè non ho capito che... Non ho capito quale è il problema. È il problema suo che devi aspettare pure un altro. Dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare. Grazie. Iniziamo già a far altro. Senza Raimondo non possiamo partire perché non sapremo dove andare. Il nostro procacciatore ancora non si vede. E manco si sente. Non risponde. Stava a Arzaghena, stava. A Arzaghena stava. Ci vuole un po'. Ci vuole 40 minuti. Raffaele prova ancora il telefono. A forza di chiamare, avremo una risposta. Non rispondo. Ma dieci minuti sono passati, no? Passati 20. L'inizio della nostra giornata non è il massimo. Raffaele però fa un'ottima previsione. È bello che ci abbiamo tutta una giornata con lui, quindi dobbiamo vedere di recuperarlo. Con quasi mezz'ora di ritardo arriva il nostro procacciatore. Raimondo, si fate belle stamattina. Come va? Tutto bene? Perché ci facciamo belle? Noi dobbiamo lavorare. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Finalmente, a seguito di Raimondo, la nostra guida, andiamo dal nostro primo allevatore. Hai visto che tipo? Poche parole. Speriamo tanti fatti. Ma dove sono, scusa? Ma le mucche dove sono? Stanno dentro. Arriviamo in breve e il panorama non è esattamente quello che mi aspettavo. Ci sono a malapena quattro bestie e nessuna delle mucche che dobbiamo caricare. Comunque noi ci affrettiamo ad entrare. Dobbiamo recuperare il tempo perduto. Raffaele è efficientissimo e io cerco di dargli una mano. Appena finito con la segatura siamo pronti a caricare. Facciamo venti qua allora? Sì. Oh, e me stanno riportando da giù. Ah, me stanno? Sono riprendere. Ma scusate, non capito. Ma dove sono sti vittegli? Sti vacchi. È inutile richiuderle, hai capito, giorni e giorni prima che ci deve dare fieno, mangi. Vabbè, non passava ieri sera. Hai capito? Raimondo, il nostro punto di riferimento, risponde con un silenzio inquietante. Finora tutto quello che poteva andare storto c'è andato. Io ripenso a quanto detto ieri a cena e comincio a credere che ce la siamo proprio tirata. Non è che ci stanno tutti, ce l'hanno tutti in stalla. Cioè, poi se arriviamo, tutte all'aperto. Le devi prima radunare e poi mettere là. Guardo meglio e finalmente all'orizzonte vedo il nostro carico. E' laggiù. Ah, eccole le vacche, sono laggiù. Sì, stanno avendo. Ma quanto ci metto da qua? Un'ora? No, escono qui qua qua. Raimondo è ottimista, ma a me sembra che le vacche siano dei puntini che si perdono nel verde. Sono lontanissime. Ad aspettarle rischiamo di perdere troppo tempo. Per la prima volta da quando l'ho incontrato, Raffaele è serissimo. Ora, Raimondo, sono ferme. Le vacche? No, certe devono rimanere lì, certe devono venire lì. Sono tutte ferme, non se ne muove una. Il tempo passa e il nostro traghetto si allontana sempre di più. Per guadagnare tempo, Raffaele prova a fare un piano dei prossimi carichi insieme a Raimondo, che però non è ingiornato. Mo' carichiamo qua. Qua, 17. Poi dobbiamo andare a prendere altre tre, quattro delle sue, cinque. C'ho cinque. Sei delle tue. Che cosa? Di animali. Più quelli che vanno sopra là. Da te o giri, quante ce ne stanno? Di vacche. Eh, tre. Tre. Comunque, mi saremo, ti voglio bene, facciamone un alavorto, che mi sa che è complicato. Tu a me mi fai bene, ma io non voglio più bene a nessuno. Fai bene. Non ci voglio più. A sapere che non stavano dentro venivamo ultimi qua. È passata un'ora. Le vacche non ci sono e il nostro procacciatore sembra avere le idee piuttosto confuse. Questa situazione ha preso Raffaele in contropiede. Ti volevo dire, facciamo prima il programma qua e poi il limite di richiamo, perché non so se riesco ad arrivare sotto, hai capito? Ora le bestie non si vedono nemmeno all'orizzonte, ma Raffaele è ottimista. Ma hanno detto che stanno arrivando. Stanno detto che stanno arrivando, anche quando siamo arrivati, stanno detto che stanno arrivando. Sono passate un'ora e mezza. Proprio quando l'orizzonte è deserto e le speranze cominciano a crollare, le vacche si presentano all'appello. Sono arrivati, finalmente. Di questi le carichiamo 20. Guarda, guarda quel salto. Ora non possiamo perdere un secondo, ma gli animali non sono un carico normale. Siamo pronti? Per me tra poco comincerà un'esperienza veramente nuova. La prima parte del carico è fatta, ma c'è da riempire ancora un intero piano dell'autotreno. Altre cinque, sì. Raffaele non perde un istante, è pieno di energia. Io do una mano, a modo mio. Un sistema simile ad un ascensore solleva i primi capi di bestiame per lasciare spazio all'altra parte del carico. Accompagni, accompagni a quelli due, vai. Raffaele mi aveva descritto la situazione, ma tra immaginarla e viverla c'è un abisso. Per stare in mezzo agli animali anche tu devi essere un po' animale. Soprattutto c'è da faticare, sporgarsi e correre. Una parte dell'autotreno è carica. Nel frattempo Raffaele sta scoprendo dove effettueremo il secondo carico e la destinazione ha veramente dell'incredibile. Cioè noi dovremmo trovare tre capi alla pompa di benzina. Sì, su un trattore. Con un ritardo tragico andiamo a recuperare le prossime bestie. Tre capi ad una pompa di benzina. Guarda se si sposta. Un po' abbiamo perso una valanga di tempo. Tre ore. Tre ore. Il problema è che se tu in uno dei prossimi ritardi così non ci arrivi più. No, non dobbiamo tanto. Non possiamo più sgarrare e nemmeno il nostro tocacciatore. Dai, mu. L'hai chiamato da risposta. Va bene, aspettiamo dieci minuti in là. Anche questi allevatori sono in ritardo. Sembra che da Raimondo non possano arrivare buone notizie. A questo punto mi sorge una domanda. Ma secondo te Raimondo sa esattamente cosa deve fare? No. Ah, ecco. Raffaele comunque non si perde d'animo e mantiene la tranquillità. Ma questa giornata sembra maledetta. Eh, solo questo ci mancava. Che cazzo ci sta. Scania, che è successo? Come ciliegina sulla torta incontriamo il mezzo più lungo che abbia mai visto in vita mia. Qualcosa come una sessantina di ruote messe tutte in fila per farci tardare. Che bestia. Dopo qualche chilometro, in una pompa di benzina semideserta, troviamo il nostro secondo carico. Adesso dobbiamo... Sganciare i rimorchi. Sì. Aprire, caricare le tre, chiudere, ricaricare i rimorchi e ripartire. Sì. Mentre Raffaele sgancia il rimorchio, io vado incontro agli allevatori. Il mio compagno di viaggio è velocissimo. Accosta il volo. Vieni qua. Apri i portelloni. E fa salire le mucche. Il totale dell'operazione, cinque minuti. Perso il tempo prima, adesso ha recuperato. Dammi i documenti di questo qua. Ha recuperato, sì, ma deve fare i conti con i documenti e con qualche problema di comunicazione. Sono tre fogli rossi. Eh, sono tre. No, dico, sono tre modelli, quattro. L'allevatore sembra non aver capito quale sia il problema. Raffaele sembra sul punto di esplode. Sono tre modelli, quattro. Tre vacche, tre modelli. Tre documenti. Ok. La situazione si protrae e sembra un po' la scena di un film comico. I fogli da firmare sembrano infiniti. Un altro modello dietro ci sta? Ah, che ne va? Una ciam***a, mi sta da ambriagato. A posto? Quasi. Poi andiamo in un altro posto. Poi ritorniamo qua, lui ce ne prepara altre due. Ah, ne ha due da poi? Sì. Ti aspetta qua, hai capito? Ah, io faccio in prima. Eh, io pure io faccio in prima. Siamo molto in ritardo. Ci vuole un quarto d'ora da qua. Eh. Venti minuti, dai, qua arriviamo. Dobbiamo prendere sei animali. Tre vacche e tre tori dobbiamo prendere. Ah, tre tori? Tre tori. Cazzo, pericoloso. Dopo presi questi qua, dobbiamo tornare indietro, prenderne altre due da questi. Però dobbiamo fare questo veloce. Eh, certo. Cioè, bisogna che sia pronto questo qua. Questo è pronto? Sì, però non rispondo. Ah, beh, è pronto sta minchia allora. E ti stai a cagare sotto, sì. Ma devi prendere calma, porti gli animali. Solo con un carattere come quello di Raffaele si può affrontare questo disastro pur sapendo che si può perdere un traghetto e migliaia di euro. Ti do una brutta notizia. Non c'è. Non vedo macchine. Dai, però come fai a non presentarsi? No. Ah, forse c'è la macchina sotto l'altro. Arriviamo in una specie di ranch folle del mondo. Lo scenario mi ricorda quello dei film western. Sono quelle? Apriamo il rimorca e io mi preparo al mio faccia a faccia con il toro. Il fattore un attimo prima di quest'altro carico bestiale ci tiene a rincuorarmi. Sono lavori un po' pericolosi questi. Brutto, eh. Una volta mi ha ingaggiato dentro il corso, dentro il camicino mio. Sì. Così che non mi ha ammazzato. A tempo di un minuto mi avrà dato il minimo, il minimo di 300 i cornati. Eh, l'ha stricciato qui. Si riprende proprio qui, ma l'abbiamo ammazzato. Oggi non poteva proprio andarmi peggio. Giova, eccola qua, giova. Il toro è bello agitato. E si avvicina a minaccioso. Anche il figlio del fattore ha fatto belle esperienze con questa bestia. Ma è me, però sei in cornata, no? Ah sì? In cornata! Non me ne accorgo e sbuche il toro. In un attimo però la bestia è caricata. Qui il vero animale è Raffaele. Sì. Sì, a cinque e mezza siamo oggi. Ma devi andare tutto? Sì. Vediamo come va adesso. Raffaele, ora ti prendi la vacca col vitello, con i vitelli qua, la pompa di benzina che lo giri. Dopo che hai preso la vacca col vitello, io me ne vado da te. Eh, non la so la strada, con due cazzi devo andare. E dopo ce ne andiamo insieme a casa. Eh, fai presto però che è tardi, Raffaele. Torniamo alla pompa di benzina. Per fortuna i due allevatori e il trattore sono là. Raffaele non si ferma un attimo. È inesauribile. E in pochissimo effettua anche questo carico. Adesso c'è l'ultimo tratta. Sì. Abbiamo recuperato qualche minuto. Si gioca tutto qui adesso. Sì. E prenderla così. Devi prenderla come viene. Poi uno avanti a un altro ne devi fare. Non devi dire vabbè io arrivo là a quell'ora, non ce la fai. E purtroppo oggi sembra proprio che non ce la dobbiamo fare. Dove ci portano? Qua ci ha insegnato? Sì, è il video. Quel casino. 80 chilometri con i cipetti? Due ore. A due ore? Perché la strada è stata brutta. 80 chilometri ci separano dall'ultimo allevamento. Grazie all'energia, la professionalità e l'amore per questo lavoro, Raffaele ha tenuto testa ad una mattinata catastrofica. Ora ci resta poco tempo per scaricare. Caricare e ripartire verso un traghetto che non aspetta. Poco tempo a disposizione per salvare una giornata. Poco tempo nel quale non deve esserci nessun imprevisto. Scarichiamo alcuni animali prima di far salire l'ultimo carico della giornata. Piccolo. Io sono completamente preso e faccio pressione per muoverci il prima possibile. Carichiamo tutto ciò che c'è. Eh, no, dovevi ancora arrivare per caricare. Ah. Eh. Dov'è arrivato lì. Per caricare? Mm. Ma crede, cioè un lavoro bestiale, tutto di corsa. Il ritardo da uno, il ritardo da l'altro, tutto si completa, pennello, entrano i pezzi del puzzle per riuscire ad arrivare. Arriviamo qui, non sono le bestie. Anche qua. Questo sembra un film già visto. Anche stavolta un orizzonte deserto e un carico in ritardo. Il finale sembra scritto, ma poi proprio Raimondo, che durante tutta questa giornata è stato un po' assente e non ci ha dato nemmeno una sola buona notizia, ci fa capire che il carico è arrivato. Carichiamo questi, gli altri, facendo. Vediamo. Aiuto per l'ultima volta Raffaele. Con questo carico è finita. Oh! 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 È incredibile a dirsi, ma ce l'ha fatta. Dai. Andate, andate. Ah ah ah. Alla fine... A posto. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì. Ti devo fare i complimenti, perché di tutti i colleghi tuoi che ho incontrato della categoria, tu sei l'unica persona che mi ha trasmesso grande serenità. Sì. Nonostante le difficoltà, nonostante la tensione, però fai tutto con grandissima serenità, con grande passione e con grande amore di questo lavoro. Se no non ti viene bene, Marco. E' stato emozionato di riuscirci. È normale. Riusci ad arrivare e sapere che riesci a prendere un traghetto. Sì. Tutti ce l'abbiamo. Ciao. Non pensavo che saremmo riusciti ad arrivare alla fine di questa giornata, che saremmo riusciti ad arrivare in tempo alla fine di questa giornata. E ci siamo arrivati con il sorriso sulle labbra. Non lo ha mai perso. Questo è veramente un lavoro che puoi fare solo se sei un'inarrestabile. E Raffaele è un'inarrestabile. Passione di papà, per primo credo ci siano le donne, in seguito il camion, e poi correre, credo, gli piace. E lui ti va alla famiglia, non è verta. Taglia. Io penso che non esiste un camionista che non ha la passione per le donne. Era via sempre con il camion, che per la sua azienda non era molto presente, diciamo. Più che altro non è stato un padre. Questo è quello che i figli dicono di Walter. Un camionista appassionato di donne e motori. Ma anche uno che per il lavoro e la sua azienda sembra abbia sacrificato molto. Ed è quello che scoprirò molto. Passione di papà, per primo credo ci siano le donne, in seguito il camion, e poi correre, credo, gli piace. E l'ultima è la famiglia, non è verta. Taglia. Io penso che non esiste un camionista che non ha la passione per le donne. Era via sempre con il camion, che per la sua azienda non era molto presente, diciamo. Più che altro non è stato un padre. Questo è quello che i figli dicono di Walter. Un camionista appassionato di donne e motori. Ma anche uno che per il lavoro e la sua azienda sembra abbia sacrificato molto. Ed è quello che scoprirò oggi. Ora sono curioso di conoscerlo, perché già dall'aspetto Walter è molto diverso dagli altri camionisti che ho conosciuto. È un piacere grande conoscerti. È un piacere mio. Allora, guida tu. Niente, qua è bloccato la Walter. Sì, senza cintura. Guarda, ma io sinceramente lì... Non ci stai mai. Accidenti che bello, però. Questo è il tuo, tuo, proprio. Questo? Lo guidi solo tu? Solo io. Adesso dove andiamo? Adesso andiamo a canciare insieme ai morti. Prendiamo il caffè e poi non ci fermiamo più perché... Sì. Giusto? Beh, perfetto io ti seguo. In realtà, con un semplice caffè, mi si apre un muro. Scopro infatti che Walter è appassionato di corse e nel bar del paese ci sono le coppe che ha vinto con il suo team. Il muro poi è tappettato di ritaglio. E lì non c'è solo lui. C'è anche mio figlio. Veramente è Federico che vince, perché è Federico, Federico. Dicevo, io voglio iniziare una gara, eh. Iniziamo. La prima arriva prima, la seconda arriva prima, la terza prima. E allora ecco... Con questo qua. Sui sempre? Sì. Sempre lui? Io ogni tanto. Dopo non hanno più lo spazio per metterle. Siamo un po' in ritardo, eh. Ma da quanti anni guidi, Walter? Io ho iniziato da 14 anni. Ah, poco in realtà. Ce ne hai? 53, 54. Ah, bene. Non ho fatto un altro, ho fatto solo questo, io come lavoro. Perché prima? Prima andavo insieme con mio padre. Cioè, prima andavate via in due? Prima io, da 14 anni. Ah, non da 14 anni che fai, da quando avevi 14 anni. Da quando avevo 14 anni. Per la consegna dobbiamo agganciare un centinato. Io questo non riesco mai a picciare, vabbè, abitudine, lo capisco e abitudine. Si tratta di una manovra di precisione, che a me ogni volta sembra difficilissima. Per un camionista come Walter, è il più semplice di un parcheggio. No, devo sentire che si aggancia. Adesso? E adesso devi fare un tac-tac. Adesso l'ha fatto, Walter. Ultimi preparativi e siamo pronti per partire. Scopro però che oggi le consegne sono due, e molto diverse tra loro. Per cui prima andiamo a Trevi, scarichiamo il contenuto e rimorgo. Sì. Poi torniamo qua. Torniamo qua. Lascio questo, agganciamo il cassonato, cioè, con il rimorchio aperto, per caricare questi migliorzi, questi muri. Perché si carica a scoperto? Perché per scaricarli, poi con la gru. Ti sei fatto proprio la storia, la bella fetta di storia del cameo. Sì, ti è cambiato tanto il mondo. Ha cambiato molto. E cambiato. Incontravamo tutti noi italiani. 100 cami, 99 erano italiani. Adesso 100 cami, 100 cami sono stranieri. Il lavoro che mi è sempre, mi è piaciuto. Dall'inizio, se no non l'avrei fatto. Oggi veramente non mi piace più. Veramente. E non c'è più il guadagno. Qui camminiamo a 0,80 centesimi. Forse sono arrivato a un bivio. Veramente. Non so quello che fare. Questo lavoro mi piaceva perché uno era libero. Non so cosa fare. Sinceramente. È facile dire se cambia lavoro. Ma quale lavoro dovrei fare? Delinquente. Il bandito è l'unico, quello che mi può dire. Potrebbe riuscire. Ma non è lì che appartamenti. Anche nella difficoltà Walter riesce a scherzare. Purtroppo però l'amore per il camion ora è messo in discussione da leggi a volte un po' troppo restrittive. Concorrenza e crisi. C'è ancora un motivo però che lo porta avanti. A quest'età mi sento responsabile per loro. Tua figlia che cosa fa? La femmina è in ufficio sulla contabilità. Il mio soprannome è la bestia. Faccio rispettare le regole. In un mondo che è fatto prevalentemente da uomini risulto cattiva. Ho il secondo figlio che Valentino va via col camion e la moglie sta in ufficio. Quando uno è figlio di un camionista il suo cammino è la strada. Se ce l'hai dentro che ti piace, c'è passione, un lavoro, un bel lavoro però ha tanti sacrifici. Un altro figlio che ancora non ha la patente dovrebbe essere prossimo anche lui. A me piacciono i camion, piacerebbe guidarli però è il lavoro in sé per sé che non mi attrae. Non è un lavoro adatto a me. I tuoi figli sono contenti? Ahia! Dietro l'aspetto allegro da Playboy Walter nasconde un mondo tutto in discussione. Anche lui, come tanti camionisti, per seguire il proprio lavoro ha dovuto sacrificare parte dei suoi rapporti. Ora siamo al primo carico. Aiuto Walter ad aprire il centinato. Per lui è un'operazione semplice. Io invece mi ritrovo un po' imbranato. Il mio compagno di viaggio è veloce, si sbriga perché sa che per lui il tempo è veramente delante. Aspettiamo. Tante volte quando c'è il materiale si aspetta la mattina, la sera. Marca, marca. Certo, se mi fanno aspettare due o tre ore io a Roma non ci riuscirei ad andare. Mentre aspettiamo che arrivi il mulettista per scaricare devo assolutamente fare una domanda tecnica avanti. Allora, il discorso di Trans Lilli. Transporter. Qui no, ma al nord Lilli è un nome di donna. Allora un attimino un po'. Ah, 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 ah. Finalmente arriva il mulettista. Walter si sbriga e in poco tempo scarichiamo. Chiudiamo il centinato e prima di ripartire proviamo ancora ad aggiustare la cintura di sicurezza. Ma sembra che non ci sia niente da fare. Stiamo per andare. Walter deve passare in segreteria e qui mi sorprende con un gesto che non ho mai visto fare due cammini. Un po' di tanto però. Dopo il baciamano una volta in cabina mi rendo conto che sto viaggiando proprio con un autista atipico. Perché, vedi, io riesco a uscire così ma se c'è qualcuno diciamo, ha visto normalmente gli autisti? Eh, tutti gli autisti hanno la panza e invece sei fisichino. Ma io, cioè... Io... Quando si parla di un camionista un autista normalmente abbiamo sempre quella bella pancetta tutto quello e il resto che sinceramente ancora io non ho. Io mi ritengo un camionista galante. Sì, sinceramente. È un autista galante. Ha una cabina particolare. E questo camion l'hai visto? Tipo Nike. Vai. Non credo che papà sia stato e è un latillover. Secondo me è tutta una facciata la sua. Secondo me tiene molto a mamma. L'afforto con mia moglie quando io sono fuori va molto bene perché sentiamo casomai al telefono. Quando sono a casa io sinceramente sono molto povero ma perché ho paura è un problema mio perché ho paura sempre del terremoto. Noi siamo in una zona sismica se no stanno sempre vicini insieme non andrebbe molto bene. L'idea che mi riesce il terremoto non ti si prende mai a te, è sicuro? È la signora la padrona di casa. Dal programma oggi è mercoledì non so se riesca a tornare boh lo so venerdì venerdì o sabato. Walter sembra proprio aver abituato la moglie al suo stile di vita e la scusa del terremoto non è l'unica nel campionario. Io non ho portato via il navigatore e non so come torno adesso. Allora, per sabato torno dai arrivi e andiamo. Senza navigatore non so se trovo la strada Sì ma io torno sabato adesso entro sabato torno oggi è mercoledì. Ma com'è il tuo sabato torno? Che cazzo vuoi fare? Dove vai? Ma adesso devo scaricare e poi poi ho finito le ore e poi diciamo eh Adesso ricarichiamo questo qua? Sì Molliamo il nostro e agganciamo un semirimorchio cassonato adatto a caricare i jersey ripartiamo al volo Arriviamo in un'altra ditta qui caricheremo finalmente i jersey Mentre Walter segue le operazioni io posso vedere da vicino come sono fatte queste enormi barriere di cemento la cosa incredibile è che su questo camion ce ne entrano sei per fare un'autostrada ce ne vogliono migliaia stiamo per andare in pausa e Walter non si lascia scappare un'altra occasione per fare il galante Poi se con le femmine è sempre così carino Siamo stati in Grecia una settimana Ah è ferie è certo sì Tu e lei Valtteri Lilli c'ha questo pensiero che era meglio la vecchia maniera si è passati dall'eccesso di prima dove si poteva guidare anche 48 ore di fila a un eccesso di oggi che se tu fai ti fermi stai fermo 20 minuti poi ti chiedono di spostare il camion per 60 metri più avanti e ci metti 4 secondi quei 4 secondi ti giochi tutta la pausa no? Walter non togla a vederlo così non mi sembra uno che abbia tanti schemi tante gabbie in cui rimanere fermo in cui rimanere bloccato Ah c'è una gara domenica? Due fili in meno Anche i tuoi figli? Io e il piccolo Ah già grande basta ma perché non andava? Lui o non arrivava o arrivava prima invece il piccolo questo è un pochino più calmo cioè il mezzo secondo è lineare io l'altro Valentino non c'è per darmi le botte a me la stessa è normalissima mandarti fuori cioè scrivo scusa abitiamo ancora a casa insieme non mi riconosci la macchina non mi riconosci ma il piccolo o il grande? Il grande ma lì è competizione è competizione ma un attimino ma hai dei tre figli con chi è che hai più rapporto? Con Valentino perché forse fa anche più o meno lo stesso lavoro mio se no anche con la femmina che ha lo stesso carattere mio cioè il piccolo come si dice il piccolo è sempre più selviziato più coccolato la mamma eh io non non gli ho mai detto questa cosa a papà però lui diciamo che cioè lo sa lo sa questa cosa che è stato abbastanza assente per per la questione del lavoro e tutto quanto sempre dato cercato di andare di tutto non è che io parlo solo dei soldi ma oggi tanto quello che vuoi quello che vuoi fare dove vuoi andare dove vai se non hai soldi ma invece di dirgli quanto hai bisogno per andare lì o volevo dirti quanto ti voglio bene non ho io non sono stato un padre così amore vieni dal padre vieni dal babbo vieni come è andato oggi a scuola non glielo ho mai detto ma ti manca? no e allora manca? no non ho mai ricevuto per esempio un complimento anche per le gare sicuramente l'ultima volta che ci siamo abbracciati sul foglio di una gala se eravamo vicini che magari siamo abbiamo cioè eravamo tutti tre insieme nel senso io e mio padre dopo se no abbracci o con conforto o robe simili no non sono stato o meno da una parte a parole sono stato a fatti a fatti nel senso dei soldi e ecco se stavo vicino ai figli facendo questo lavoro cosa dovrebbe dire? che io viaggiavo di meno o non viaggiavo con il camion ma ero solo io che lavoravo io ho sbagliato ma va bene ho sbagliato ma l'ho sempre dimostrato a modo mio probabilmente per questo lavoro hai tolto tantissimo alla famiglia hai tolto tantissimo a te stesso non ci sono vacanze non ci sono orari Walter è quello che ha sempre cercato di non far mancare niente alla famiglia e probabilmente alla famiglia invece mi ha mancato un po' Walter con questo lavoro tu non mi puoi obbligare a non tornare a casa ho avuto mio padre morto di sabato si è rovesciato con un trattore un trattore agricolo a cingoli si è rovesciato e è rimasto scherciato Madonna ma così è mancato io non c'ero ero fuori un amico che ci lavoravo insieme mi disse guarda devi tornare giù domani dobbiamo caricare ma devo caricare Perugia non c'è nessuno sono tutti fuori il più vicino c'è te ah ti ho detto questo per non dirti che era mancato senti poi quando sei arrivato che quando sono arrivato non mi affesionava arrivare a casa e mi sono arrivato a prendere c'era due amici miei e un autista e voi che cavolo fate no guarda il successo che trovi all'ospedale non sarebbe dite tante perché c'è quando si è cavolate ditemi è morto perché non ci sono spiegazioni mi sentiva e io oggi non è passato mai un giorno che forse non ci penso anche se è un attimo due secondi io tutti i giorni ci penso la strada ha segnato la vita di Walter al trasporto e agli incidenti sono legati anche i suoi rapporti la cosa assurda che sto per scoprire è che il momento in cui Walter è stato più vicino a Federico il figlio più piccolo è stato proprio un incidente ah io ce ne ho avuti incidenti c'è avuto col cane incidenti pesanti pesanti io quella sera avevo 11 anni che facevo la prima sono andato dietro sul lettino per dormire sono stati quegli attimi che io pensavo di chiamarlo a voce alta invece a me non veniva fuori la voce la strada ha segnato la vita di Walter al trasporto e agli incidenti sono legati anche i suoi rapporti la cosa assurda che sto per scoprire è che il momento in cui Walter è stato più vicino a Federico il figlio più piccolo è stato proprio un incidente ah io ce ne ho avuti incidenti c'è avuto col cane incidenti pesanti pesanti e così è successo dovevo andare a Roma e dico partiamo stasera io quella sera avevo 11 anni che facevo la prima media non lo so volevo andare via e quindi sono partito sono andato dietro sul lettino per dormire la macchina ferma vedi ho fatto così e poi ho ritirato a destra però io mi ricordo che ho pensato come non lo so l'asfalto rovinato tipo delle buche che si era aperto in cassetta e la caduta della roba ho rovesciato ah sei già girato sul fianco e quei momenti te le ricordi come se fosse non le racconti perché non le non posso raccontarle non mi viene da raccontarle io dormivo e l'ho sentito l'impatto però sicuramente mentre dormivo non ero cosciente di quello che stava accadendo e punto ho chiamato madonna il ragazzino e ho chiamato Federico Federico io oggi lo chiamo ma lì non mi è venuta la voce è stato quegli attimi che io pensavo di chiamarlo a voce alta invece a me non veniva fuori la voce cioè voce voce per sé no però sentivo che mi diceva Federico svegliati così ho preso un'idea che non posso dire come era andata non lo sentivo ho pensato il peggio veramente il peggio che era andato fuori era forse sotto ho tanta paura perché poi io i piedi l'avevo qua mi sentivo ero sul terreno sull'erba quando ci siamo rovesciati lui ha preso era qua qui era terra era in fianco capito poi mi ha risposto sì oba quando ho sentito me lì cioè per me è stato non so descrivere cosa cioè alla fine si capisci che alla fine vedi che no che fai il duro quello che non dà le coccole ai figli ma che la tua famiglia è fondamentale cioè sì sì siamo alla fine del viaggio e ora finalmente Walter ha calato la maschera si atteggia da playboy da menefreghista ma alla fine per lui la famiglia è tutto comunque appena può si ricala al volo nel ruolo di latin lover oh e te subito vista bionda subito ma io non no ma veramente è lui no la cosa incredibile sai qual è io si fa sono quanti sono 12 metri 6 metri 20 ogni chilometro servono 20 camion 20 camion ogni madonna come voglia l'aspetto sabato sabato e mercoledì secondo me Walter Walter Lilli la passione per il camion in realtà ce l'ha perché ha la passione per la libertà ci fa fatica veramente a rimanere chiuso ingabbiato deve poter decidere lui i tempi i modi i luoghi a un punto preciso che non tralascia mai di raccontare di puntualizzare sempre Walter Lilli torna sempre a casa e anche quando era al telefono con la moglie un agnellino era contento che l'avesse chiamato per sapere quando sarebbe tornato ci dai dai un occhio di più al piccolo poi lo porti a correre lui è contento siamo insieme non lo faccio stare avanti l'idea di che lo lasci stare avanti già avanti capito ah io pensavo che lo lasci avanti si aspetta l'abbraccio in più si aspetta parole diverse è difficile tenerlo deve andare avanti Walter Lilli è veramente un'inarrestabile 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 un'inarrestabile